E' il Cerasuolo uno dei più poliedrici dei rossi siciliani, perfetto per essere servito in piena estate, vino capace di accompagnare sia pietanze a base di pesce sia di carne senza mai tradirne il gusto. Massimo Maggio, presidente del Consorzio di Tutela del Cerasuolo, in La Sicilia sostiene che questa, a prescindere dal tempo, sarà un'annata prospera per il vino vittoriese. Se per vendemmiare le uve nere del Frappato e del Nero d'Avola, uniche uve con cui è possibile produrre il Cerasuolo vittoriese, e se si dovrà aspettare la conclusione della prima decada di settembre, la vendemmia di uve bianche per il Grilla e l'Insolea è quasi giunta al termine. Un sistema complesso, quello del vino siciliano, fatto sia di grandi cantine sia da cantine più piccole. Queste danno più valore al territorio e garantiscono la biodiversità, mentre le grandi fanno da traino. Un piccolo passo pare sia stato fatto per l'export oltroceano. Se infatti lo scorso anno le cantine del vino siciliano avevano una sola influenza del 2% rispetto al 32,7% del Veneto, quest'anno le cantine vittoriesi hanno già pronte oltre 800.000 bottiglie di Cerasuolo, pronte a contestare l'amore new yorkese per i vini bianchi. Il vigneto siciliano negli anni ha subito una drastica riduzione, è confrontabile con quello di altri paesi esteri, che presentano però una più altra produttività. Di tutta risposta, i vigneti nostrani presentano il ben 60% di vigneti autoctoni. Sarà per questo che all'esterno sale la considerazione per i vini siciliani. La Bibbia del Vino Wine Spectator ha dedicato non solo diversi pagine, ma anche una copertina all'isola. La crescente fama e il riscontro tra i consumatori è fatto così che da tempo infatti si è entrato nell'Olimpo dei 73 vini a denominazione d'origine controllata e garantita, che insieme ad altre 322 etichette DOC assorbiranno il 40% della produzione vinicola. Un giro d'affari che entra in un motore economico di quasi 10 miliardi di fatturato, inerenti solamente alla vendita del vino.